Allora ragazzi, oggi io e Steve vi portiamo a Costa Paralina, partendo esattamente da questa schiazza, sia portovista. Allora siamo arrivati alla prima spiaggetta, che non so come si chiama, però è una spiaggetta molto un po' di osservata, bella, finiamo. Allora diciamo che il percorso è abbastanza semplice, ci sono dei pezzi un po' difficoltosi, però niente di così accattante, però non è veramente la pena perché c'è un panorama spettacolare. Seconda spiaggia, arrivando a Porto Vista, questa si chiama spiaggia La Finosa, questa spiaggia non si può arrivare tramite la statale perché praticamente c'è un canchello di una proprietà privata e non ti fa andare oltre. L'unico modo per raggiungere questa spiaggia è attraverso il sentiero di Costa Corallina oppure quello che stiamo facendo adesso tramite il sentiero di Porto Vista. Altre spiagge. Ragazzi, qua è pieno di canette. Uno spettacolo. Assisi incontri eccoci qua dal punto di vista del panorama guardate è uno spettacolo guardate Grazie per la visione!